dato un'informativa questa mattina l'avete ricevuta no 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 forse è un altro sempre al solito indirizzo aurelia pop perché quello mi è stato dato non lo so non lo so da dove a questa questa io l'ho ricevuto da voi dalla signora madre anastasia o anastasia non so come mai ha mandato mente meglio normalmente le avrebbe dovuto mandare il mio il mail personale ma non importa possiamo parlare direttamente certo certo allora come forse già sapete il tema è la pandemia stiamo facendo una ricerca su come le varie religioni hanno affrontato questa situazione così grave così drammatica ecco allora io lo dico subito mi permetto di di registrare perché poi dovrò riprendere le cose più importanti e per il capitolo che farò sulla chiesa ortodossa in italia e il covid 19 ecco allora impostiamo il discorso su tre livelli il primo livello è quello della comunità sì il secondo livello è quello della cura dell'attenzione a coloro che stanno soffrendo gli ammalati le famiglie i ragazzi le ragazze e il terzo livello la questione teologica ecco il male come lo si affronta eccetera allora è un'intervista importante perché diciamo attraverso questa ora o ora e mezza più o meno cerchiamo di capire che cosa è successo nell'ambito della ortodossia rumena in modo particolare che che è in italia e quindi cominciamo dal primo discorso che è quello della comunità quindi che impatto ha avuto e ha ancora perché ancora siamo in piena pandemia questo fatto nuovo che che influenza che che conseguenze ha comportato per per la vita della comunità innanzitutto siamo tutti siamo stati tutti in qualche modo sorpresi sorpresi sprovvisti di dei mezzi adeguati per affrontare questa realtà ma nello stesso tempo siamo stati obbligati di adattarsi da una settimana all'altra praticamente il periodo chiedo scusa chiedo scusa e adesso mi è arrivato il messaggio che devo chiedere il permesso formale a lei per la registrazione sì non so se c'è da schiacciare non so se c'è da schiacciare un pulsante no no lo ha già fatto lo ha già fatto formalmente prima allora riprovo a schiacciare perché non mi è partita la registrazione è partita già lo fa partire io e poi mando io tutto li mando ah benissimo grazie 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 così così non perfetto grazie grazie ricordiamo adesso è chiaro perché a me non non partiva e poi padre 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 yuan che ci sta assistendo certo grazie 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 la registrazione perfetto chiedo scusa dunque dicevamo dell'impatto sulla comunità sì siamo stati sorpresi come tutti credo di questa realtà perché da una settimana all'altra praticamente la comunicazione che era sulla via normale della presenza in chiesa della gente si è interrotta praticamente e in più il periodo più difficile ha coinciso per noi con il periodo della quaresima prima della Pasqua questo diciamo su questo potremmo possiamo ritornare sulla parte teologica certo ma questo ci ha aiutati a in qualche modo a gestire meglio la privazione perché il periodo della quaresima è un periodo di privazione volontaria di cibi ricercati o cibi comunque latticini e carne ova eccetera di feste di movimenti il periodo della quaresima è un periodo più di riflessione su se stesso di conversione anche di una lettura spirituale un po' più adatta per la cura dell'anima quindi abbiamo provato di mantenere il contatto con la gente ad ogni costo sia tramite il telefono gruppi internet che si sono creati gruppi whatsapp e altri e adattarsi il più velocemente possibile con la trasmissione delle celebrazioni in formato online però nello stesso tempo insieme a questo periodo sono apparse subito le difficoltà materiali di tanta gente tante persone incluse famiglie dei sacerdoti perché abbiamo delle famiglie dei sacerdoti con più bambini che dipendono praticamente dalla partecipazione della gente in chiesa perché tanti dei nostri sacerdoti vivono solo delle offerte della gente e se non si poteva più lavorare la moglie non lavora quindi la situazione è abbastanza complicata io devo fare chiedo scusa devo interrompere un po' nessun problema devo devo cambiare il provare di connettermi con l'altro telefono perché mi dice che sto finendo i giga non so perché non so come mai questa volta perché mi l'ho potuto mi dice mi dice va bene va bene quindi diceva la difficoltà dei sacerdoti perché anche famiglie di sacerdoti vivono della carità delle lemosine i nostri sacerdoti in gran parte sono impegnati pienamente nella vita della chiesa e quindi dipendono dalle offerte della gente perché praticamente la gente viene in chiesa fa delle offerte per la commemorazione dei vivi e dei defunti comprano una candela comprano un libro e le famiglie dei nostri sacerdoti gestiscono i sacerdoti gestisce amministrativamente come si chiamano queste le ricette della ricette si dicono che entrano nel tesoro della chiesa e da lì comprano il necessario per il cibo pagano l'affitto dove abitano a nome della chiesa a nome della parrocchia quindi perché vivono per la chiesa e la chiesa provvede in questo modo è necessario non c'è un altro stipendio che venga dalla diocesi per esempio certo e quindi abbiamo dovuto gestire alcune famiglie dei nostri sacerdoti soprattutto di quelli che vivono nella parte centro-sud soprattutto il sud del paese Salabria, Sicilia, Sardegna dove hanno anche meno gente la gente è più povera e poi alcuni dei nostri sacerdoti sono stati per esempio contaminati nelle prime settimane con il Covid fortunatamente non abbiamo avuto nessun nessun decesso tra i sacerdoti ma i primi che si sono contaminati sono stati i sacerdoti che hanno la moglie che lavora negli ospedali alcune moglie dei nostri sacerdoti sono cadri medicali, medici o infermieri che si sono contaminati per primi e quindi i sacerdoti sia si sono contaminati sia sono stati obbligati alla quarantena però subito ci siamo organizzati anche sul piano pratico noi abbiamo un fondo sociale un fondo della solidarietà preso dalla nostra diocesi nel quale le parrocchie che hanno più possibilità hanno versato un po' più di soldi e nello stesso tempo abbiamo creato anche un po' di solidarietà nelle comunità tra i fedeli i fedeli che hanno più possibilità aiutino i fedeli che non ce l'hanno e il volontariato il volontariato che sta funzionando diciamo abbastanza anche in modo normale perché abbiamo dei malati abbiamo le persone che sono nei carceri le persone che sono negli ospedali che sono visitate sia dal sacerdote dalle ammolade del sacerdote o dai gruppi alcuni gruppi di persone che sono più desiderose di visitare per esempio i malati o hanno ottenuto il permesso di entrare nel carcere insieme ai sacerdoti o a posto del sacerdote quando il sacerdote non può per fare una preghiera per parlare con quelli che sono nei carceri e in questo modo negli ospedali e nei carceri è stato molto più complicato di entrare quasi non si poteva e non si può neanche adesso molto difficilmente ma dall'altra parte piano piano ecco questo volontariato si è organizzato anche di una maniera formale ottenendo titolo di volontario da parte sia dai assessorati sociali o della Caritas o collaborazione con alcune associazioni locali per poter avere una libertà di movimento perché spesso la gente è un po' sparpaliata sparsa un po' un sacerdote ecco padre Ioanne nella zona del Trentino ha un'area molto larga andando fino sui villaggi sulla montagna lui celebra Trento ma si muove un po' in un'area molto più larga e se non hai la possibilità di arrivarci e di poter avere contatto con la gente è complicato e anche che la gente possa contattarti e quindi abbiamo messo in moto questa solidarietà anche se le dico francamente non ho dovuto insistere tanto su questo nel senso che la solidarietà nella vita comunitaria si è manifestata di una maniera spontanea non ho dovuto la gente non ha aspettato i sacerdoti o la gente il comandamento del vescovo fate questo e questo mi ha fatto mi ha dato gioia perché ho visto che si stanno muovendo alcuni romeni per esempio hanno negozi con prodotti dalla Romania che hanno messo un po' a disposizione o uno lavora forse per la frutta e verdura o altro uno ha un'associazione con un'associazione la solidarietà si è manifestata anche con il banco alimentare con cui lavoriamo tante parrocchie sono affiliate al banco alimentare da anni abbiamo provato un po' di stare vicino alla gente e nello stesso tempo di seguire i bisogni spirituali perché la prima il nostro primo scopo della nostra vita pastorale di assicurare la cura spirituale è stare attenti anche ai bisogni non so materiali di prima necessità che la gente può avere hanno cominciato i sacerdoti di celebrare ogni sera cosa che non succedeva normalmente celebrano due o tre volte alla settimana solo i monasteri celebrano ogni sera in alcune parrocchie si celebra più frequentemente ma tante hanno iniziato a fare una preghiera o preghiera di sera a vespro o altro avere un po' di incontri ogni sera catechesi più volte a settimana con i bambini eccetera quindi l'attività in qualche modo sul piano virtuale ha continuato di una maniera più intensa che nel resto in tanti casi prima diceva che in quaresima latticini uova ecco c'è una una proibizione c'è una ma quaresima quaresima in generale fare nella chiesa ortodossa ogni mercoledì e venerdì a parte i periodi tra natale e teofania e poi prima settimana dopo Pasqua e alcuni giorni specifici nell'anno mercoledì e venerdì non si mangia carne non si mangia pesce non si mangia uova non si mangiano latticini ecco e poi quaresima vuol dire sette settimane prima della Pasqua sei settimane prima di Natale due settimane prima del Ferragosto e il periodo tra la Domenica di tutti i Santi quindi prima Domenica dopo Pentecoste fino al 29 di giugno periodo che varia secondo la data della Pasqua sono periodi di quaresima ma in particolare il più diciamo il più stretto il più il più rigoroso è quello prima della Pasqua quando tanta gente che forse non si confessa durante l'anno non pensa un po' all'anima durante l'anno durante la Quaresima della Pasqua ci pensa prova di fare quaresima almeno tre giorni alla settimana lunedì mercoledì venerdì se non la prima settimana è l'ultima ma tanti fanno tutto il periodo tutti i sacerdoti fanno tutto il periodo e quindi è un periodo non solo di privazione di cibi eccetera ma un periodo di riflessione un periodo di preghiera un periodo anche di penitenza conversione penitenza un po' più attenta a quello che rappresenta tutto quello che è sbagliato nella mia vita di fronte al modello dell'uomo perfetto che è Cristo ecco c'è stato un periodo soprattutto lo scorso anno all'inizio della pandemia durante il quale ci sono state delle restrizioni molto forti sì non ci potevano essere le celebrazioni sì di qualunque religione ecco come ha reagito la comunità che atteggiamento ha avuto la comunità mi è sembrata come dire molto comprensiva non abbiamo avuto non so reazioni negative protestazioni proteste o queste cose di questo genere la gente ha capito subito che si tratta di una realtà molto seria molto pericolosa ma nello stesso tempo ha capito visto che io ho scritto subito all'inizio una lettera per indirizzare un po' la gente per dare un po' dei riferimenti e dei principi di vita ha capito che la nostra questo periodo è un periodo che deve essere sfruttato dal punto di vista spirituale e quindi come dico avevano bisogno e sono stati molto partecipi alle preghiere di sera preghiere vesperale ogni sera hanno chiesto e poi hanno seguito le celebrazioni che facevamo normalmente le liturgie eccetera sia in settimana sia dominicali tramite i mezzi tecnici internet eccetera e nello stesso tempo hanno moltiplicato la preghiera hanno capito che si deve pregare e nello stesso tempo utilizzare come abbiamo nell'abitudine di utilizzare l'acqua santa averla in casa e ogni mattina prendere un po' di acqua santa un po' di prosfora di pane benedetto che rimane dopo l'eucaristia e che si distribuisce alla gente alla fine della celebrazione noi abbiamo l'olio santo che utilizziamo per ogni malattia e ogni difficoltà dell'anima e del corpo quindi queste cose io ho fatto delle raccomandazioni per utilizzare i rimedi usufruire dei rimedi spirituali prima di avere dei rimedi e godere dei rimedi non so medicali eccetera e nello stesso tempo mantenere rispettare strettamente l'ho chiesto sia ai chierici che alla gente i principi sanitari i principi di salute pubblica di una maniera molto seria quindi la gente mi è sembrata desiderosa di continuare anche in in campo virtuale quello che viveva prima e anche i bambini sono stati molto recettivi le abbiamo proposto vari non so giochi concorsi eccetera quale ha quale dei bambini ha non so la stanza più ordinata che ha le icone più belle o che sa cantare un canto molto bello di preghiera alla madre di Dio o al Signore e loro sono stati loro sono molto pratici di queste cose comunicano tanto su internet sui social come si dice e quindi hanno reagito bene però si è sentita sentito il bisogno e chiedevano una modalità da noi la gente è abituata a parlare con i sacerdoti un po' per tutto per tutti i problemi non va non pensa ad andare al psicologo anche se ha problemi in famiglia eccetera viene dal sacerdote non va dal psicologo e quindi questo è mancato tanto e i sacramenti i sacramenti il fatto di prendere la comunione soprattutto quelli che hanno l'abitudine di comunicarsi un po' più frequentemente perché c'è una ci sono due tradizioni due tendenze nella nostra chiesa alcuni che comunicano di una maniera più frequente e altri che comunicano si comunicano solo si confessano e si prendono la Santa Comunione solo durante la Pasqua per la Pasqua o durante la Quaresima prima della Pasqua si preparano digiunano alcuni giorni e poi si comunicano prendono la comunione e quindi questo sì la mancanza dei sacramenti è stata direi la più grande prova durante questo periodo di quando non si è potuto andare in chiesa è è stato difficile però la gente è stata comprensiva hanno capito che la situazione è tale che ci dobbiamo dobbiamo sfruttare quello che abbiamo e mettere la nostra fiducia nel Signore che noi chiamiamo in una delle preghiere medico delle anime dei corpi ci siamo affidati al Signore alla Madre di Dio ai Santi la gente ha pregato la gente ha pregato e questo credo che ha contribuito anche all'equilibrio psicologico della gente anche all'atmosfera più pacifica nelle famiglie perché non è stato facile a gestire un periodo in cui sei obbligato di gestire i tuoi bambini 24 ore su 24 quando loro sono abituati al programma eccetera piano piano la scuola ha messo in pratica un po' il programma ma prima di questo non è stato semplice e ci sono purtroppo state delle persone che per motivi materiali hanno hanno lasciato hanno lasciato tutto hanno si sono tolte la vita purtroppo ho avuto notizie anche di questo genere è doloroso è terribile ma è così persone che avevano non so mutui eccetera e che non non ce l'hanno fatta non erano tanto vicine alla comunità ecclesiale purtroppo e questo quando ti trovi da solo di fronte a dei problemi soprattutto materiali vedo a volte non si non si non si riesce a gestire questi problemi di una maniera come dire con una certa distanza distanza con fiducia con fiducia in qualcosa in qualcuno di più di quello che è materiale quanti casi ci sono stati di questo tipo non abbiamo un elenco ma alcuni non tanti ma ho sentito parlare dei sacerdoti che hanno sentito loro parlarsi di questi casi non si sono rivolti non essendo in chiesa non non si sono rivolti direttamente al sacerdote ma si è sentito dai familiari dalle persone che ecco è successo questa brutta cosa i vostri messaggi le vostre comunicazioni passano attraverso il vostro sito della metropolia attraverso i social network come come operate un po' un po' su tutte tutti i mezzi possibili vuol dire che sia sul sito della diocesi sia su facebook conto facebook della diocesi abbiamo fatto comunicazioni anche sul conto youtube della diocesi ma noi abbiamo una rete di mailing diretto con i sacerdoti e le moglie dei sacerdoti e quindi qualsiasi comunicazione si è fatta così poi sulla piattaforma zoom abbiamo fatto più incontri con i nostri sacerdoti anche con le mole dei sacerdoti anche con i bambini con i giovani abbiamo provato di un po' di usufruire di questo questi mezzi per poter rispondere alle domande rispondere ai dubbi rispondere rispondere ai tentare almeno di rispondere anche alle paure alle difficoltà che la gente può avere questo è stato bello perché anche tra le parrocchie a volte hanno comunicato con questi mezzi hanno invitato un sacerdote delle vicinanze a parlare alla gente di un'altra comunità un po' di contatti così è stato importante perché con i sacerdoti nel primo periodo credo che abbiamo avuto tre o quattro volte ogni settimana Padre Juan ogni settimana avevamo un incontro da una parte con quelli che sono impegnati nell'amministrazione della Chiesa e i decani che sono 22 nel territorio ma abbiamo 24 decanati in tutta l'Italia due sono uno due dei nostri decani rimpiazzano il decano mancante per un per un altro quindi sono 24 22 decani e poi con i sacerdoti per per zone della zona nord la zona centro e la zona sud facevamo un incontro discutevamo ecco i nuovi provvedimenti sono questi come facciamo e poi questioni identificare delle soluzioni liturgiche pastorali spirituali materiali per poter gestire questa cosa e questa ci ha fatto comunicare di più e anche le mole dei sacerdoti si sono impegnate tanto soprattutto nella parte della catechesi dei bambini e la parte la parte sociale loro vegliano un po' con un cuore e attenzione di madre accanto al loro marito danno un un apporto direi essenziale nella nella vita della chiesa un apporto molto particolare so che nel mondo cattolico non si potrebbe forse integrare questa questa funzione questo questo servizio ma è un servizio molto particolare e ho sentito una volta un sacerdote cattolico anni fa negli anni novanta dicendomi in Francia dove studiavo all'epoca mi ha detto ma sai io sono senza moglie ma se un sacerdote ha una buona moglie è un sacerdote e mezza quasi due quasi che rapporti è solo un metà sacerdote che rapporti avete avuto con le istituzioni per questo periodo abbiamo un rapporto un rapporto diciamo abbiamo un rapporto diretto con la direzione centrale per gli affari dei culti quindi il ministero degli interni nel cadro del ministero dell'interno era la signora Giovanna Jurato che era prima abbiamo avuto un buonissimo rapporto con lei adesso con la la sua sostituto abbiamo ripreso un contatto molto positivo e siamo stati in contatto in contatto praticamente con loro sia per sapere tutelare la realtà nuova che veniva ma anche per poter usufruire dei diritti della libertà religiosa che all'inizio diciamo sono stati un po' come dire abbiamo dovuto rinunciare tutti quanti a tutto ma abbiamo capito che la situazione era talmente complicata e spaventosa e delicata che si doveva fare così ma siamo stati veramente molto contenti e la gente è stata contentissima ha reagito di una maniera come per la Pasqua dopo quando il 21 praticamente il 21 in settimana 21 maggio hanno potuto tornare per la prima volta in chiesa dopo Quaresima e Pasqua senza poter andarci non hanno aspettato la domenica perché domenica era mi sembra 24 non so quanto era sì sì 26 o 24 hanno corso in chiesa il 21 per ringraziare il Signore che ecco possono venire in chiesa e adesso si sono abituati vengono in chiesa di una maniera disciplinata direi dipende a volte se il sacerdote è un po' più sentimentale ha tendenza di non essere così stretto se è più rigoroso e tiene i principi di una maniera un po' più rigida ma fortunatamente ecco abbiamo potuto ritornare e grazie ecco alla collaborazione ai rapporti aperti anche di rispetto che abbiamo avuto con i nostri interlocutori diretti quindi con la direzione centrale che è parte del Dipartimento per le Libertà Religiosi e Immigrazione Bene passiamo al discorso della cura il problema della cura dei malati dei contagiati come è avvenuto cosa si è fatto ci sono stati degli episodi dei casi particolari quello che è stato fatto è stato fatto di una maniera molto discreta i nostri sacerdoti hanno famiglia hanno moglie hanno bambini ma hanno provato di stare vicino a questa gente pur rispettando tutti i principi ma vegliando che niente non li manca e portando alla loro porta o vicino alla loro porta il necessario non solo materiale ma anche spirituale e comunicando sia tramite telefono tramite questi mezzi moderni di comunicazione per aiutarli a mantenere fiducia e consapevolezza del fatto che la comunità è una famiglia una grande famiglia che le sta attorno perché dobbiamo capire una cosa già è difficile pur vivendo in Italia dove diciamo i romeni sono accolti di una maniera bella naturale aperta e dove si inseriscono e si adattano di una maniera facile perché essendo di tradizione latina di identità latina è più facile inserirti nella società italiana che nella società non so araba o cinese però comunque essere sradicati e non essere nel tuo paese nel tuo tra i tuoi parenti eccetera è una difficoltà che si vive forse tutta la vita per alcune delle persone quando ti viene ancora di più sulle tue spalle devi portare un peso in più e non un peso facile soprattutto quando questo comporta ripercussioni materiali morali familiari eccetera è una difficoltà ancora in più quindi noi abbiamo già dobbiamo gestire le difficoltà di che che vengono normalmente a tutte le persone che non sono non vivono nel loro nell'ambiente nel quale sono nate abbiamo dovuto in più gestire questo tutte le conseguenze sia materiali ma soprattutto morali spirituali di questa di questo periodo però ecco tramite il personale sanitario di nazionalità romena i nostri sacerdoti hanno seguito le faccende dei malati tramite i medici tramite e non solo anche tramite i medici italiani hanno seguito un po' anche ha contato tanto la solidarietà tra la gente il fatto di essere attento al tuo vicino attento al tuo prossimo e subito si passava la parola ecco un tale anche lui è contagiato un tale è in difficoltà e abbiamo creato anche un elenco dei nomi da commemorare nelle nostre celebrazioni sia dei sacerdoti e delle loro famiglie sia dei dai fedeli che si comunicavano i nomi comunicati dai nostri sacerdoti dalle mole dei sacerdoti su i elenchi che abbiamo internet quindi su email comune delle mole dei sacerdoti e l'email comune dei sacerdoti e ogni sabato sera il mio vescovo vicario Monsignor Atanasio mandava l'elenco aggiornato di queste persone che devono essere commemorate e lo fa fino ad oggi che devono essere per le quali dobbiamo pregare perché sono contaminate perché sono in difficoltà e l'attenzione gli uni verso gli altri comunque io dico che è stata importante è stato un punto importante purtroppo nei carceri è stato vietato di entrare è stato molto più complicato noi non abbiamo ancora l'intesa con lo stato italiano quindi entriamo di una maniera ancora più dipendiamo ancora di più della benevolezza della direzione eccetera però abbiamo detto almeno preghiamo per sempre preghiamo per quelli che sono nei carceri perché abbiamo sempre nelle nostre litanie un pensiero per quelli che sono nei carceri ma i malati ecco anche i nostri sacerdoti sapendo che un altro è malato la sua famiglia si sono messi d'accordo nelle vicinanze con noi oggi vado io domani vai tu teniamo contatto con loro vediamo di che cosa hanno bisogno e poi la prossimità l'incoraggiamento abbiamo fatto anche noi vescovi la stessa cosa seguendo un po' come state come vi sentite suggerendo forse un salmo suggerendo una preghiera suggerendo un testo è stata un'abbondanza dei testi che si sono scambiati tra whatsapp perché i nostri sacerdoti hanno gruppi di whatsapp con i fedeli con i giovani con i piccoli tanti testi tanti filmati che possano dare un po' di coraggio un po' di anche barzellette barzellette perché quando c'è difficoltà appariscono le migliori barzellette durante il comunismo in Romania le barzellette le più riuscite sono venute allora e vedendo adesso tante barzellette belle mi sono reso conto che la situazione è anche difficile anche adesso sia in Romania che qui in Italia vuol dire che si è provato non so se abbiamo riuscito perché tante persone forse non hanno un mezzo tecnico per poter seguire tutte queste gruppi eccetera ma si è provato di aiutarci anche su questo modo e ripeto la preghiera il fatto che io alzo il mio cuore verso il Signore questo non dipende dalle reti dai se c'è se c'è rete o non c'è se funziona o non funziona il pensiero di preghiera va verso il Signore il Signore lo porta e lo trasmette lo lo convertisce in bene per per tutti quello che io porto nel cuore e per tutti in generale quando dico tutti noi non abbiamo aspettato ad avere dei problemi noi nostra comunità per cominciare a pregare quando abbiamo visto in Cina la situazione che c'era e poi piano piano che si si va un po' in tutti in tutti i paesi abbiamo iniziato la preghiera e abbiamo suggerito la preghiera quando iniziava già in Cina non abbiamo pensato che loro non sono cristiani ortodossi si prega si prega e credo che questa consapevolezza del globalismo della preghiera della coscienza umana e del fatto che l'uomo intero e immagine del Signore chiamato invitato a condividere l'eternità con Dio vivente ci ha fatto allargarsi un po' allargarsi un po' le prospettive allargarsi un po' il cuore come dice San Paolo allargatevi il cuore allargate i vostri cuori allargare un po' gli orizzonti non pensare solo al mio bene alla mia salute alla mia vita al mio benessere al mio conforto ma portare nel cuore tutti quanti tutti quanti perché tutti quanti soffrono tutti quanti hanno dei bambini tutti quanti sono tante sono madri le madri sono madri dappertutto e i padri sono padri e i bambini sono bambini i nonni sono nonni il dolore il luto e il luto per tutti quanti anche se lo vivono di una maniera e lo gestiscono di una maniera diversa e questo credo che è stato un beneficio un bene un grande bene che è uscito fuori da questi da queste questo periodo e queste esperienze ecco proprio questo l'impossibilità da parte dei familiari di assistere le persone ammalate perché erano separate in ospedale magari anche in casa primo punto poi c'è il discorso del lutto il problema della partecipazione ai funerali sì persone anche molto vicine non hanno potuto nemmeno assistere al funerale sì questo questo questi sono dolori e angosce che credo che non hanno paragone poco poco possono avere in una poca misura possono avere paragone riguardando il dolore e poi ciascuno vive il dolore di una maniera unica non si può quantificare non si può paragonare noi abbiamo suggerito alle persone in queste situazioni di fare insieme al sacerdote insieme alla comunità di pregare come se la persona fosse presente per esempio l'ufficio per i defunti di farlo diciamo così in assenza fare tutto come se la persona fosse lì perché in qualche modo sì noi siamo siamo addolorati di non poter dare un ultimo abbraccio alla persona amata che è deceduta è venuta a mancare però noi non confondiamo il cadavere la come si dice la salma non la confondiamo con la persona stessa perché l'anima rimane altrettanto viva se non più viva sente vede partecipa alla realtà ma di una maniera in un'altra dimensione che per noi è invisibile ma è reale è concreta e noi preghiamo per la salute la salvezza e il riposo dell'anima fino alla alla seconda resurrezione al secondo giudizio quando alla resurrezione dei morti quindi sì siamo addolorati dal punto di vista umano dell'affetto umano però la nostra fede ci dice che non ci dobbiamo rattristare come dice San Paolo ai Tessaloncesi come quelli che non hanno speranza e abbiamo suggerito di pregare in assenza di fare l'ufficio del funerale le preghiere eccetera in chiesa o tramite comunicazione internet sacerdote ha detto non posso andare in chiesa da tua casa tu metti i tuoi paramenti celebri ti metti in contatto con la persona che le persone che sono nel luto e fate la preghiera ogni sera per esempio prima della sepoltura da noi si legge il salterio i salmi si leggono i salmi e il vangelo leggi questo con queste persone vi mettete in contatto e leggete fate come se la persona fosse lì perché noi abbiamo la consapevolezza che l'anima non è più circonscritta nel corpo quindi lei può partecipare può essere in comunione con quelli che pregano tramite la grazia del Signore la grazia del Signore fa funzione di wireless ha copertura dappertutto e non ha problemi di di trasmissione di di non so di rete e di di trasmettitori quindi si prega si prega per i malati si prega per per quello che di cui non si sa niente si prega per per colui che è sepolto e poi è defunto e non si può toccare non si può avvicinare ma si fanno le preghiere il terzo il nonno il quarantesimo giorno come se fossimo vicini a lui perché noi preghiamo come dice il Signore il legno del Signore dei vivi non dei morti noi preghiamo per le persone che si sono addormentati e per loro anima come per le persone vive non per le persone morte morte e sepolte nel senso finito basta finito non si può fare più niente e questo anche ha portato tanta tanta consolazione alla gente alle persone perché pregando pregando essere essendo avvicinate in preghiera della comunità ecclesiale hanno superato di una maniera più facile questo la scrittura dice guai a colui che è solo è difficile quando una persona è sola e deve gestire queste cose è molto complicato molto difficile ma spiritualmente le distanze praticamente si cancellano non ci sono più distanze non c'è distanza tra noi e il Signore spiritualmente vuol dire che non c'è distanza neanche tra noi e gli altri spiritualmente come avete risolto il contrasto fra il diritto alla libertà di culto e il diritto alla salute difficile questo contrasto nello stesso tempo la la questione finalmente non si pone neanche di libertà di culto si pone io ho ho attirato l'attenzione in una direzione si la salute è primordiale la libertà di culto è primordiale ma primordiale ancora di più è la salvezza che si compie nelle condizioni date non aspettando e non cercando di non so cambiare le condizioni e l'esempio più forte per noi che è stato nel secolo scorso è l'esempio di coloro che sono stati messi in carceri dal 1948 e in particolare dal 1950 fino al 1965 ho incontrato un sacerdote che è stato arrestato in 48 è stato ricondannato in 50 quando i comunisti si sono installati bene in Romania e è uscito dalla carcere nel 1965 17 anni dopo essere stato arrestato quindi privato di tutti i diritti ma non del diritto di essere salvato e ho chiesto l'ho conosciuto e ho parlato più volte con lui e con altri sacerdoti che hanno fatto prigione o persone laiche ma ho conosciuto più persone così hanno pregato hanno operato noi lavoriamo per la nostra salvezza per l'eternità per prepararsi all'incontro con il Signore in qualsiasi condizione non lasciamo e non dobbiamo lasciare che altre cose diventano prioritarie perché ricevono un peso che è troppo grande e poi creano un conflitto dando la priorità alla salvezza nelle condizioni date il peso del diritto alla salute della tutela della salute e quello della libertà religiosa si sono ridotte sì la realtà è questa che cosa facciamo iniziamo a protestare iniziamo a reagire a rigettare tutto questo o operiamo continuiamo a lavorare per la nostra salute per la nostra salvezza e a mantenere il rapporto personalizzato con il Signore nelle condizioni date e credo che questo in qualche modo non so se si dice smorzato la tensione la pressione la tensione di questa di questa realtà noi non si deve dimenticare che noi solo trent'anni fa vuol dire che io ne avevo già venti trent'anni fa siamo usciti da un regime e da una condizione di vita che non ti dava nessun diritto sul piano spirituale mio padre era stato sacerdote per 48 anni e non avevo non avevo quasi nessun diritto civile nel senso civico di chiedere un diritto chiedere un aiuto dallo stato eccetera essendo sacerdote io ero considerato in liceo nel mio catalogo quando vedevano padre sacerdote ero considerato una persona con origini malsane e non potevo andare né in liceo io volevo andare in liceo di marina militare non ho potuto andare per le mie origini malsane non potevo andare in facoltà di diritto di legge di militare accademia militare o neanche storia per le mie origini malsane e quindi sono andato in teologia non perché non potevo andare altrove potevo andare in matematica o fisica perché ho fatto un liceo di matematica e fisica però scientifico come si dice qui ma vuol dire quindi ritornando un po' in una situazione di di quando non hai diritti di fare tante cose personalmente non non voglio fare così lo splendido ma non è sembrato qualcosa di così terrificante così è così è la realtà una realtà che non abbiamo vissuto per 30 anni ma prima non era più andavo ogni mese nel negozio alimentare per prendere la razione come si dice razione di olio 200 millilitri di olio al mese per una persona 200 millilitri di olio non olio di oliva olio di oliva ho visto prima volta quando avevo 20 anni mi è sembrato un po con un gusto un po molto diverso del gusto che conoscevo quindi non l'ho apprezzato un granché prendevo la razione di pane prendevo la razione questo lo prendevo ogni settimana la razione di pane 250 milligrammi di pane alla settimana e poi prendevo razione di zucchero 100 cento milligrammi di zucchero alla persona per mese e poi era mi sembra anche farina di farina di grano mi sembra che era ma nel resto nel nel magazzino nel negozio alimentare non c'era niente sui scaffali niente niente si prendeva non tutti arrivavano a prendere la la razione io andavo ero bambino mia madre mi diceva devi prendere la razione facevo la coda per un'ora per due per tre e prendevo quello che si poteva dare a volte era di meno perché non era abbastanza eccetera quindi adesso sinceramente non mi è sembrato così difficile mi faceva un po' male il fatto che la gente può essere spaventata può essere può avere difficoltà a gestire i bambini i bambini piuttosto mi hanno fatto pena perché tenerli chiusi tutta la giornata quando hanno bisogno di muoversi di di fare movimento di giocare di 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 prendere l'aria è stato molto più doloroso diciamo ma ecco mi sembra che adesso le cose si sono un po' sistemate di più ma quel primo primo periodo è stato brutto da questo punto di vista bene ha citato la teologia è il momento di parlare del covid in termini di analisi teologica come come si può vedere come si può interpretare per esempio nei testi biblici c'è qualcosa che ci aiuta a capire sa delle prove di questo genere delle epidemie sono passate sul popolo tante volte alcune volte nel vecchio testamento si parla come di una punizione di Dio ma nelle interpretazioni teologiche si capisce sempre che dietro una realtà che sembra negativa dolorosa penosa può Dio sta nascondendo un una realtà migliore un bene che non si discerne non si vede subito e io credo che la velocità della vita alla quale eravamo arrivati all'inizio degli anni 2020 già iniziava a darci dei vertigini non solo a me che devo che stavo provando di correre tutta l'Italia perché la Diocesi non è non è una città non è una provincia non è una regione la Diocesi ha fedeli quasi 300 parrocchie più un centinaio di filiali parrocchiali dove la gente si ritrova con il sacerdote un venerdì sera o un sabato sera ma non la domenica mattina quindi in tutta l'Italia anche in Sardegna anche in Sicilia anche nell'isola di Malta dove abbiamo una piccola comunità che chiede attenzione che chiede la cura spirituale la velocità alla quale si doveva fare tutto quanto era arrivata a dei limiti io mi chiedevo veramente all'inizio degli anni 2020 come si può continuare in questo modo quando tutti corrono di una maniera terribile e sì il fermarsi è stato di una maniera un po' rigida è stato come un colpo di freno così inaspettato e alcuni siamo arrivati sul parabrezzo parabrezza no? parabrezzo non so come si dice parabrezza 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 la faccia contro la parabrezza il naso scacciato contro la parabrezza o contro il sedile davanti ma io ho ricevuto una domanda i giorni scorsi da parte dei bambini come dobbiamo capire quello che è successo e ho detto ai bambini ai giovani ho risposto dobbiamo fare una lista un elenco non una lista un elenco delle cose positive che sono avvenute in questo periodo e delle cose negative e vediamo che si può capire di questo le testimonianze che ho è che i bambini sono stati molto contenti soprattutto i piccoli perché gli adolescenti non tanto ma i più piccoli sono stati contenti di avere i genitori accanto a loro ogni giorno un figlio di sacerdote dei nostri sacerdoti che adesso è anche lui stesso sacerdote 30 anni fa 20 anni fa ma 30 anni fa nascondeva le scarpe del suo papà che durante la giornata lavorava aveva un altro lavoro arrivava la sera dal lavoro e si preparava si lavava mangiava qualcosa e si preparava di andare dai fedeli in parrocchia per un malato per una comunione per una confessione per una benvenzione di casa e il figlio non lo vedeva quasi mai e gli nascondeva le scarpe e il papà cercava dimmi dove le miei messe no perché tu non stai mai con me non stai sei papà di tutti gli altri ma tu sei papà mio e con me non stai quindi io credo che tanti bambini sono stati contentissimi e poi se l'aria si è pulita se le acque si sono pulite se lo stress degli animali selvatici si è abbassato a tal modo che si sono moltiplicati molto di più in 2020 che nel resto se il numero delle api non è scaduto non è diminuito come negli anni passati in 2019 più di metà delle api del mondo sono morte per polluzione per come si dice no sì sì polluzione aria irrespirabile eccetera quindi aria inquinata inquinamento possiamo possiamo tirare la conclusione che dietro questo questa situazione dolorosa che ha visto tante famiglie perdere i loro cari oltre 80.000 solo in Italia dolore direi quasi inconsolabile ci so si nasconde si nascondono dei benefici che non si possono negare io io credo che qualsiasi realtà come questa costituisce una tromba si dice no trompetta tromba come nell'apocalisse no sì esatto una tromba del Signore che in qualche modo prova di darci la possibilità anche di ripensarci la nostra vita le coordonate della nostra vita adesso possiamo pensarci che cosa vogliamo vogliamo ritornare allo stesso ritmo veloce che ci dà capogiri o vogliamo riconsiderare un po' di più l'essere in famiglia la comunione tra sposi la comunione tra genitori e bambini l'ascolto dei problemi che a volte sono sono ritenuti nei piccoli cuori dei bambini e che non escono fuori se non c'è un'atmosfera di condivisione di fiducia di calore materno paterno non lo so sono delle domande che mi faccio ritorniamo i bambini se i bambini iniziano a soffrire a essere infelici vuol dire che dobbiamo pensarci bene come vogliamo continuare perché mi sembra che a volte troppo facilmente siamo pronti a sacrificare la loro felicità quello che è meglio per loro per poter fare quello che così dicendo è meglio per noi e questo è solo un sintomo uno dei sintomi nel nel medioevo si dice che quelli che avevano le barche i velieri che sul mare non avevano barometri ma avevano dei pulcini di anatra sotto la nella cala del della barca come si dice la barca la stiva nella stiva e quando questi pulcini iniziavano a essere un po' molli così addormentati un po' un po' deboli si sapeva che la la tempesta è vicina e che tempo che la pressione scade e che si avvicina la tempesta se i pulcini se i pulcini di questo mondo si suicidano per mancanza di vicinanza e di amore di calore materno e paterno e ci sono tanti casi di bambini di questo genere se i bambini sono sfruttati di una maniera inumana solo per portare soldi a casa vuol dire che i pulcini di questo mondo gridano e il loro grido va dal padre celeste che assume e assumerà fino al fine del mondo la sua paternità i suoi doveri paterni non rinuncia ai suoi doveri paterni e alla sua responsabilità paterna e forse che forse dobbiamo pensare anche in questi in questi termini come facciamo per che le scelte che facciamo a tutti i livelli personale familiale comunitario nazionale sociale politico eccetera abbiano in vista e siano molto di più all'ascolto dei più piccoli e più deboli prima di prendere delle decisioni e dei provvedimenti e non solo per loro i deboli non solo sono bambini ci sono tante persone che sono infelici nel modo la loro infelicità è dovuto a un sistema di vita che li rende infelici e che li rende depressi che li rende nell'impossibilità di proseguire e questo si dovrebbe pensare di più e ancora anche alle persone anziane perché in qualche modo si quasi di una maniera cinica si diceva all'inizio solo le persone anziane sono toccate dal virus e sono che cosa vuol dire questo solo c'è un proverbio romeno che dice se non hai dei anziani comprateli perché perché c'è una saggezza nella presenza dell'anziano nella comunità nella casa noi vediamo qui a me manca questa presenza nella comunità noi abbiamo pochissimi anziani qui perché gli anziani i genitori i noni i genitori sono in Romania e la comunità non ha manca sia nella vita familiare nella vita comunitaria e anche tra i sacerdoti abbiamo 3-4 sacerdoti che hanno superato 70 anni ma tutto il resto sono più giovani manca questa saggezza questo equilibrio e pensare che va bene loro hanno vissuto la loro vita ci possiamo ci possiamo come dire separare di loro possono non esserci no dobbiamo dobbiamo stare attenti e pesare bene la realtà nella quale viviamo chiedendo ispirazione dall'alto dal Signore per capire come impostare i principi della nostra vita nel futuro perché a volte tutto si riduce solo a quello che l'uomo può sa è capace di fare come se Dio non fosse presente nell'equazione della nostra vita nei principi della nostra vita io parlo come cristiano e poi come fare per non dimenticare dopo questa lezione che il dolore la sofferenza e la prospettiva della felicità è un bene comune costituiscono dei non so se posso dire beni ma dei tratti comuni a tutte le persone della terra non solo a me o a me che sono cristiano penso solo a me allargarsi e rimanere con la prospettiva allargata e con i cuoli allargati verso una realtà che di tutti dell'uomo intero dell'intero Adamo come diceva il discepolo di San Silvano del Monteato Spade Sofroni dell'Inghilterra l'Adamo totale ci riguarda tutti quanti e noi tutto quello che faccio io riguarda l'Adamo totale le chiedevo se nei testi sacri c'è qualche riferimento che aiuta a capire la pandemia mi sembra che la prospettiva che dà il Vecchio Testamento è abbastanza dura all'ora attuale non si capisce più un Dio che punisce perché abbiamo una maniera sentimentale di capire le cose e di rapportarci a Dio ma dimentichiamo che pedepsis dal greco che vuol dire punizione e che è stato quindi compromesso è una parola che è stata compromessa da una predicazione che ha fatto abusiva del termine punizione pedepsis alla radice pedevo vuol dire educare rendere il bambino buono è una pedagogia si tratta di una pedagogia divina ma nel passato si capiva di un'altra maniera questo sia Dio di fronte agli egiziani che manda loro le plaghe per lasciar partire dall'Egitto dalla schiavitù il popolo ebreo sia riguarda per esempio la torre di Siloè nel Nuovo Testamento quando cade e ammazza tanta gente tante persone che cosa dice il Signore non pensate che loro sono i peggiori e più peccatori di voi perché se voi non vi convertite non nel senso non cambiate la vostra vita la vostra visione di vita i vostri principi di vita potete anche voi può succedere anche a voi questo io so che il mondo di oggi neanche il mondo cristiano neanche il mondo ecclesiale non è non è contento di sentire questo discorso perché sembra medievale medievale e il mondo fuori dalla Chiesa ancora di meno è disposto di sentire questo ma credo che in questa situazione che abbiamo avuto c'è stata e c'è una pedagogia divina che ci vuole orientare ci vuole fare riconsiderare dei principi della nostra vita e renderci più consapevoli sia del dono della vita sia del dono del sacramento del fratello del prossimo essere meno egoisti essere più compassionevoli perché a volte questo mondo più è civilizzato meno è compassionevole più è più vive bene materialmente meno è compassionevole quindi quindi sono cambiati i concetti di vita morte sofferenza preghiera collettività oppure è rimasto tutto come prima a mio parere da quello che sto constatando è che le cose le cose si sono sono cambiate non credo e mi auguro che non ritornino indietro ma che si aprino a una prospettiva che non si riduca solo a quello che io a me gode a me gode quello che a me gode la preghiera a me gode non so la scelta che faccio ma a pensarci sempre pensare sempre in un modo sempre più largo con una prospettiva e ha le conseguenze di quello che faccio di una maniera sempre più larga sempre più vasta che prende gli altri in considerazione sia quando si tratta di di compassione sia quando si tratta di non so scelte le scelte le più personali perché tutto quello che faccio penso sono desidero ha un impatto anche se non si vede subito ha un impatto positivo o negativo su tutta la realtà umana la pandemia ha fatto pensare di più al futuro all'escategologia sì ma la vicinanza della morte la morte dell'altro ecco domenica durante la notte di domenica verso lunedì adesso un nostro sacerdote dopo aver celebrato la festa parocchiale all'Aquila è venuto a mancare è morto è deceduto ha fatto un stop cardiaco quando i paramedici sono arrivati non hanno più i medici sono arrivati non hanno più fatto potuto fare niente hanno lo hanno risuscitato per 45 minuti senza nessun risultato era un sacerdote di 61 anni del 59 che conosco da quasi da quando ero ragazzo ero al liceo quando l'ho conosciuto per la prima volta e sua moglie anche prima l'ho conosciuta ero prima di andare al liceo in 83 credo che l'ho conosciuta o 84 sua moglie è malata in Romania insieme al loro figlio che ha voluto seguire un liceo teologico che non c'è qui di teologia autodossa per andare poi in facoltà di teologia noi domani dobbiamo fare la celebrazione e poi insieme ai sacerdoti e ai fedeli della parocchia e lo mettiamo in un carro come si dice una macchina delle pompe funebre che lo porteranno lo porterà in Romania per seppelirlo lì vuol dire quando vedi la morte accanto a te e poi vedevamo soprattutto in marzo aprile ma in marzo in particolare centinaia e centinaia di morti ogni giorno i cari armati dell'esercito che portavano le salme a Bergamo o altrove cominci a riflettere sulla fragilità della vita e quanto è facile di di trepassare di passare oltre i confini di questa vita un 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 battito di di palpebre così e sei nell'aldilà e questo anche ci fa pensare anche alla fine non solo della propria vita ma il fatto che nel mondo c'è tanta sofferenza si vive si vive di una maniera abbastanza difficile c'è tanta torbolenza nel mondo tanta torbolenza tanta pur ricercandosi la felicità eccetera ma tante torbolenze tanti tanti movimenti il mondo è altrettanto movimentato come l'atmosfera o l'atmosfera come il mondo non si sa forse è il contrario la natura si muove come si muove il mondo tanti terremoti tanti tempeste tante tempeste tanti problemi questo vuol dire che c'è una convulsione che ha una causa e credo che noi dobbiamo arrivare cercare di capire teologicamente spiritualmente personalmente le cause perché se trattiamo solo i sintomi le cause rimangono e si manifesteranno anche se noi riusciamo a domare i sintomi si si ripresenteranno le cause e si manifesteranno anche nel futuro la pandemia ha messo in difficoltà la dottrina della chiesa il pensiero della chiesa no non credo no no si ricorda non so se si ricorda ma San durante il periodo in cui era Papa San Gregorio Magno c'è stata una pandemia un'epidemia ma grande epidemia che cosa ha fatto ha formato sette gruppi per categorie di età e di identità di età in particolare a Roma e sono partiti su sette vie per arrivare a Santa Maria Maggiore e poi lì hanno fatto preghiera e il Santo San Gregorio ha pregato davanti all'icona Salus Populi Romani chiedendo alla Santissima Madre di Dio di proteggere la gente e di fermare questa questa epidemia e subito dopo ha visto nel cielo l'arcangelo Michele che rimetteva la sua spada nel come si chiama nel nel fodero e per questo da quel momento il castello sopra il cui è stato visto è stato avvistato non solo da San Gregorio ma anche della gente Sant'Arcangelo Michele si chiama il castello dell'Angelo o dell'Arcangelo il castello Sant'Angelo Sant'Angelo da quell'epoca si chiama così vuol dire che la maniera io direi adesso una cosa perché comunque la voglio dire la voglio dire è che noi dobbiamo scroprire una cosa io non noi non dico gli altri dico per me così gli altri non si non si sentono non so pisati io credo che viviamo un tempo in cui noi cristiani io come cristiano devo riscoprire di una maniera seria profonda e non solo sentimentale o morale che cosa vuol dire metanoia metanoite dice San Giovanni Battista metanoite dice il Signore iniziando la sua predicazione metanoite convertitevi pentitevi ripentitevi perché il regno di Dio dei Cieli è vicino ossia è avvicinato il regno dei Cieli questa conversione il senso profondo che il Signore stesso vuole dare alle sue parole a questo questo questa esortazione questa la vorrei scoprire e capire in questo momento perché credo che è un momento in cui invece di non so di fare la teoria da noi si dice la teoria della del fiammifero si diceva nel comunismo tu fai la teoria del fiammifero invece di fare la teoria del fiammifero invece di cercare così oggi credo che il ruolo mio di cristiano e di noi cristiani in genere è oggi di riconsiderare che cosa vuol dire la il conversione pentimento non so come si può dire correttamente come si potrebbe tradurre questa questo metanoite dal greco perché è nostro dovere di fare questo non solo per noi cristiani per il mondo meno parole meno parole meno dichiarazioni meno discorsi meno conferenze meno congressi più conversione conversione della mia vita e accordarla non di una maniera come una scimmia perché noi noi non scimmiotiamo la vita di Cristo e l'immagine di Cristo e la somiglianza a Cristo ma vivere nello spirito di verità secondo i principi di vita che condivide con noi non solo ci ha insegnati ci li ha insegnati così come un insegnamento un discorso esterno condivide con noi tramite il suo sangue e la sua il suo corpo e la sua grazia il figlio di Dio incarnato e questo è il problema perché noi siamo il sale della terra se la terra ha dei problemi di questo genere vuol dire che il sale ha dei problemi e il Vangelo dice che il sale se perde il sapore non sala più non serve che essere calpestato e questo è il dovere che noi abbiamo perché io credo che i tempi che viviamo ci mettono in crisi perché crisi vuol dire giudizio crisi e giudizio noi dobbiamo giudicarsi noi stessi e giudicarsi come dice San Paolo giudicatevi voi stessi prima di prendere il pane e di bere dal calice discernendo bene il corpo di Cristo giudichiamoci per non essere giudicati insieme al mondo credo che è un momento in cui dovremmo fare questo sì rispettiamo tutti i principi altri e preghiamo come San Paolo ci esorta pregate sempre fate delle preghiere per tutti gli uomini e in particolare perché quelli che sono nel governo nell'amministrazione del governo qualcosa del genere perché questo piace a Dio questo piace a Dio i cristiani non non devono non dipende la nostra la prospettiva della nostra vita non dipende dall'ordine sociale se quelli nei prigioni 17 anni hanno continuato a fare la loro salvezza operare fare il necessario per la loro salvezza e ne sono usciti e hanno continuato per due venti trent'anni come sacerdozio normale ritrovando a volte o non ritrovando più la loro famiglia perché a volte la moglie del sacerdote si era sposata e il sacerdote rimasto fino alla fine della sua vita senza sposarsi e senza più avere la sua famiglia vuol dire che noi viviamo così e poi se siamo insensibili e non compassionevoli al male e al dolore e alla sofferenza del mondo qualsiasi sia e invece di far questo diventiamo i giudici del mondo e quelli che diamole che mettiamo le coliamo delle etichette di giudizio e di di sentenze sui fronti delle persone del mondo e quelli che dicono in questo mondo come si deve fare la vita siamo da piangere i cristiani siamo da piangere abbiamo perso la direzione e questo questo si dovrebbe fare credo che c'è stato un po' troppo attivismo nel mondo cristiano ideologia e attivismo la vita in Cristo è vita non è un'ideologia e non si riduce a un'ideologia e non si riduce al discorso perché altrimenti il verbo di Dio non si sarebbe mai incarnato se era solo una questione di discorso e di parola se si è incarnato vuol dire che noi dobbiamo andare più in profondo e non rimanere solo al discorso e all'ideologia perché noi abbiamo avuto ideologia comunista in Romania ideologia che ci ha fatto la vita difficile anche il cristiano può vivere di ideologia ideologia consumazione il consumismo può essere anche cristiano consumiamo conferenze congressi parole su YouTube eccetera emissioni di televisione di orientamento cristiano eccetera ma non iniziamo a vivere in cristiano e a essere attento a quello accanto al vicino al mio prossimo non occuparmi di non so che cose cause perse o perdute e provare di risolverli invece di convertire me stesso cambiare la mia vita avicinare conformare il mio pensiero il mio desiderio il mio parlare sentire vedere guardare guardare agire a quello che è il Dio uomo il mio modello di identità che mi ha assunto tramite il battesimo e condivide la sua vita con la mia il suo pensiero con il mio e la sua il suo perdono la sua misericordia la sua compassione compassione con con me bene grazie padre ioan giusto padre ioan si allora io per ringraziarvi dicevo per ringraziarvi vi manderò il libro mio che è appena uscito sulla religiosità in Italia grazie ve lo mando come file è uscito presso Franco Angeli questa settimana scorsa è una ricerca su 3.238 persone selezionate secondo un campione e poi 164 persone che abbiamo intervistato molto approfonditamente diciamo con interviste che più o meno hanno avuto la durata di questo nostro incontro di oggi allora padre Siluani io mi chiamo come lei lo so bene ma veniamo da Cipro noi non lo so mi chiedevo anche io penso di sì forse sì penso di sì Cipro bene padre Ioan come si trova a Trento bene bene grazie ecco appena so che sui Trentini non è molto facile avere capacità di influenza è vero è vero è un problema come dire delle zone di confine e quindi risentono del problema della patria ecco esatto il discorso della patria specialmente poi anche più in là Bolzano esatto esatto Bolzano fa parte anche della sua parrocchia no no c'è un altro parroco ah c'è un altro parroco che parla tedesco magari no non parla tedesco ma ha dovuto ha dovuto imparare qualche parola perché lì per lavorare è esatto esatto c'è questo problema bene allora davvero molte grazie io padre Silouan ho anche seguito altre sue interviste quindi come dire ero ben preparato grazie so che giocava anche a calcio e so che a volte essere figlio di un sacerdote può anche essere conveniente no una volta hanno scelto lei per rappresentare la scuola giusto sì ecco il figlio del sacerdote era guardato dai bambini come i loro genitori guardavano il sacerdote ecco e questo papà mi diceva stai attento non dimenticare che sei mio figlio perché ti guardano i bambini ti guardano come i loro genitori guardano me esatto devi dare un buon esempio io spero che non finisca qui nel senso che spero di continuare anche con altre iniziative e quindi davvero mi sono molto grato di questa attenzione la ringrazio io per ecco per per l'invito per per aver desiderato di sentire anche la mia opinione io mi sono sentito libero di dirle quello che penso e spero che ci sia qualcosa che possa aiutare qualche parte da qualche parte qualcuno è una testimonianza semplice ma di cuore di cuore la potete anche pubblicare sul vostro sito questa intervista così bella appena mi dai il link oppure fate una versione lunga e una versione breve scegliendo magari i passaggi più significativi quelli che possono interessare di più la comunità rumena che è in Italia perché è venuta devo dire sono anni e anni che faccio interviste è venuta molto molto bene e credo che l'intervistato ha avuto modo di parlare eh io non ho interrotto totalmente totalmente è anche una mia tecnica eh io lo dico sempre ai miei studenti lasciate parlare lasciate parlare sì sì lei è stato esemplare dall'altra parte io non ho difficoltà di espressione quello l'ho capito subito però l'italiano non lo pratico tanto mi dispiace se ho fatto delle no degli errori no 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 a parte un congiuntivo ma aprano aprano sì l'ho detto aprino ma sì bravo però però ho visto tante altre finezze che vengono da francese l'accusativa plurale se l'oggetto precede ci hanno condannati non ci hanno condannato come dicono in Italia la ringrazio e i dieci anni passati in Francia prima si sentono si sentono impronta forte anche una capacità molto di parlare al mondo laico al mondo secolare al mondo profano si deve quello in Francia lo si impara bene dopo la legge del 1905 però intanto in Francia fanno tanto per la religione sì basta pensare tutte le spese per le chiese sì pagano tantissimo lo Stato lo Stato prende cura si prende cura per fortuna se no sì 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 è vero è vero io sono vissuto molti anni dove voi avete anche una parrocchia a Cerignolo in provincia di Foggia è stata data una chiesa che io conosco bene la chiesa di San Giuseppe adesso è la vostra chiesa sì 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 a Cerignola non conosco il parroco vostro a Cerignola è un padre mi sembra che anche lui ha il nome di battesimo Ciprian mi sembra bene bene padre Juan non mi ricordo esattamente mi sembra comunque a Cerignola ci lega San Potito perché San Potito come no sembra che un 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 bambino del sud Danubio della dacia suddanubiale italiana e quindi non perché non erano ancora i slavi lì era all'inizio quindi del secondo secolo o terzo inizio del terzo ma mi sembra che piuttosto al secondo secolo e lo abbiamo scoperto da quando sono in Italia abbiamo scoperto San Potito abbiamo ricercato un po' sulla sua storia eccetera e anche lo abbiamo preso come protettore diciamo padrono dei della dei giovani dei più piccoli della nostra nepsis Italia della della fraternità dei giovani della nostra dioce sì ho visto ho letto ho letto le vostre cose quindi so bene anche di questo grande impegno per per i giovani per i giovani e forza no ebbè è è il futuro sono le nuove generazioni il seguito certo e la continuità quindi è importante molto importante sì e io sono stato in Romania più volte mi ricordo una una università a confine con l'Ungheria mi aiutate a dire il nome della città dove sarebbe eh oradea bravo ah voi dito oradea io dico oradea oradea sì oradea 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 sono anche salito sul campanile di oradea per vedere di lì tutta la città sì una bellissima città non grande ma bella sì 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 è molto multiculturale molticonfessionale sì interessante molto bene bene tantissime grazie e davvero buona serata e buona settimana grazie grazie tante grazie a voi al massimo vi mando sì va bene va bene ma io so che addirittura ci sono dei programmi che riescono a trascrivere ah non lo so io quello eh adesso sui computer c'è anche questo che addirittura riescono a trascrivere perfetto vabbè vedrò un po' se mi riesce grazie buona serata arrivederci buona serata grazie davvero grazie grazie așa așa închide tu părinte la arrivederci buona serata a ieșit a ieșit nu așa părinte mulțumim de ajutor oh le-a spus destul un om care se interesează